Leonardo Silva Revisoree E' davvero possibile viaggiare nel tempo? Sicuramente voi vi starete stupendo di questa domanda, poi proprio fatta da un astrofisico e perché ve lo sto chiedendo? Potreste avere un atteggiamento un po' spaventato o forse un atteggiamento di esaltazione o potreste rimanere del tutto indifferenti. Ma io ve lo sto raccontando perché amo la fisica e perché amo le sfide. E allora guardiamo questa storia e cominciamo a conoscere i protagonisti di questa storia. Se sono a Napoli e voglio andare a Milano posso dire che per raggiungere Milano devo fare 600 chilometri e per raggiungere Roma ne devo fare 200. Ma se ho una macchina che va a 100 chilometri orari io posso anche dire qualcos'altro. Posso dire che Milano dista da me 6 ore e che in realtà Napoli dista da me 2 ore. Questo è se vado con una macchina che va a 100 chilometri orari. Ma se invece ho una navicella fotonica? Se sto andando alla velocità della luce che cosa sto facendo? Bene, se sto andando alla velocità della luce sto viaggiando a 300.000 chilometri orari. E allora cosa dico della distanza della luna dalla Terra? Potrei dire che è 380.000 chilometri ma potrei anche dire che è 1,27 secondi. E il Sole? Beh, il Sole sono ben 150 milioni di chilometri oppure 8 minuti. E Marte? Marte è la nostra nuova frontiera 252 milioni e 600 mila chilometri o 14 minuti. Attenzione però 14 minuti con la mia navicella fotonica. In realtà le navicelle che abbiamo a disposizione sono un po' più lente. Se proprio volessi andare a scattare la fotografia su Marte con la maggiore velocità che posso comunque impiegherei 8 mesi. Allora spostiamoci usciamo fuori dal nostro sistema solare arriviamo alle stelle che è la nostra stella più vicina Proxima Centauri. Bene, Proxima Centauri dista tanto 40.000 miliardi di chilometri oppure 4,2 anni luce. E andiamo ancora più lontani ci stiamo avvicinando alle galassie queste sono due galassie che stanno nel sud sono due galassie che chiamiamo le nubi di Magellano Bene, queste due nubi distano rispettivamente 160.000 e 200.000 anni luce. Ma quando la luce è partita proprio da queste due galassie sulla Terra in realtà noi avevamo i primati e questo invece cos'è? Questo è un ammasso di galassie è un ammasso di galassie che dista 240 milioni di anni luce e cioè quando la luce è partita da questo ammasso di galassie sulla Terra c'erano i dinosauri. Abbiamo parlato quindi di distanza, di tempo, di luce ma come è stato il percorso che ha fatto questa luce? Finora, parlando di distanze e di tempo abbiamo ipotizzato che la luce si muovesse secondo una linea retta si muove sempre secondo una linea retta? Non sempre non sempre perché se lungo il suo percorso la nostra luce incontra un ostacolo in realtà questa viene deviata e allora immaginate che questo reticolo sia un lenzuolo se sul lenzuolo non c'è niente la luce va in linea retta ma se sul lenzuolo c'è una massa questa massa deforma il nostro lenzuolo e quindi la luce che noi vediamo partire da A A è la posizione reale della stella per arrivare sulla Terra fa una piccola curva una curva che dipende da quanto il lenzuolo è stato deformato e cioè in modo apparente a noi la stella sembra essere in B perché noi ipotizziamo che il nostro percorso della luce sia per linea retta ma non è così e quindi Einstein già nella sua relatività generale ci aveva parlato della possibilità che la materia possa esercitare un'attrazione sulla luce stessa quindi deformarne il cammino ma dobbiamo aspettare un po' di tempo perché questa predizione di Einstein sia realmente osservata e nel 1919 Eddington durante un'eclise solare veramente conferma osservativamente quello che Einstein aveva previsto e infatti grazie al fatto che la luce del sole veniva oscurata noi abbiamo le stelle tra la posizione che ci aspettavamo quindi senza questo effetto della deformazione è che diciamo senza il lensing gravitazionale quindi questa deformazione del nostro lenzuolo e la posizione delle stelle invece vera osservata grazie all'effetto del lensing gravitazionale Einstein poi ci aveva detto che in realtà in un calcolo di modesto valore questo effetto del lensing non poteva essere osservato con le stelle perché era un effetto piccolo non poteva mai essere visto ma Zwicky un po' più tardi nel 1937 ha l'intuizione ok va bene una stella forse modifica poco il cammino della luce ma se invece di una stella noi ne mettiamo più stelle cioè utilizziamo una galassia quella che Zwicky nel 1937 chiama nebula beh con una nebula l'effetto lo possiamo osservare e questa volta dobbiamo aspettare un po' più di anni ma finalmente nel 1979 Walsh osserva osserva un effetto di lensing di due oggetti che sono quasi stellari che noi chiamiamo quasar e finalmente vediamo le immagini di questi due quasar per effetto del lensing ingranditi e moltiplicati e già perché questo fa una lente guardate la Terra da una parte dall'altra parte molto distante rossa la nostra galassia e al centro azzurra la nostra lente che sta deviando i raggi che provengono dalla galassia per la deviazione di questi raggi cioè per la deformazione di questo nostro lenzuolo la luce fa un cammino curvilineo e in modo apparente noi vediamo l'immagine della galassia rossa distante moltiplicata e ingrandita e fa solo questo? La lente? No, in realtà la lente non fa solo una moltiplicazione e un ingrandimento ma fa anche qualcos'altro ecco guardate questa è l'immagine della galassia cosa le succede se ad attraversarla è una lente? e allora c'è un terzo effetto di cui non ho parlato cioè abbiamo la moltiplicazione abbiamo l'ingrandimento abbiamo anche la distorsione come un calice una candela vista attraverso la base di un calice bene, l'immagine di questa candela vista attraverso la base di un calice viene moltiplicata più pezzettini ingrandita ma anche distorta e le molteplici immagini possono anche unirsi a formare un solo anello e beh, guardate confrontate quella che era la realtà di un'immagine lenzata da una galassia che sta al centro e quello che è l'immagine similare del calice e quindi le lenti che fanno? allora le lenti stanno moltiplicando stanno ingrandendo e stanno distorcendo ma di quanto è questo effetto? e beh, l'effetto dipende dalla lente quindi abbiamo bisogno di conoscere la fisica e abbiamo bisogno di conoscere la lente e la lente è solo una stella o una galassia? no, il nostro lenzuolo può essere deformato un bel po' e può essere deformato per la presenza di un insieme di galassie addirittura un ammasso beh, in questo caso i raggi vengono deviati parecchio e grazie proprio alla distorsione da parte di un ammasso di galassie quindi un insieme di galassie che è finalmente nel novembre 2014 quello che attendevamo veramente da anni che cosa è successo? osservando un ammasso di galassie abbiamo visto un oggetto che era un puntino particolarmente luminoso questo puntino luminoso era visibile per ben quattro volte ben quattro puntini che all'improvviso si sono accesi quindi qualcosa di transiente la sua luminosità all'improvviso è aumentata era una supernova ma non una supernova qualsiasi una supernova esplosa in una galassia lenzata che colpo di fortuna e questa supernova l'abbiamo chiamata Revstal Revstal come il primo fisico che aveva teorizzato la possibilità di comprendere qualcosa di più importante all'interno dell'universo le leggi fisiche dell'universo attraverso questi oggetti transienti lenzati queste supernove guardate cosa era accaduto è accaduto che il nostro lenzuolo dritto venisse deformato dalla presenza dell'ammasso di galassie sempre il reticolo e il nostro lenzuolo e i raggi, vedete quelli rossi provenienti dalla galassia che sta dietro sono stati deviati deviati sono arrivati fino a noi in Ben tre diverse immagini un vero colpo di fortuna perché con un'opportunità unica potevamo riosservare la supernova per ben tre volte come un cartone animato lo riavvolgevamo e lo riosservavamo e adesso la domanda ok, lo possiamo riosservare tre volte ma lo stiamo osservando l'ultima volta possibile o siamo fortunati? cerchiamo di capire perché è possibile riosservarla tre volte perché i raggi partono allo stesso istante ma abbiamo detto che vengono curvati in modo diverso fanno cammini diversi quindi possono arrivare in tempi diversi e allora chi è arrivato prima? bene, guardate uno è questo raggio questo raggio è molto lontano da dove il lenzuolo è curvato e arriva subito ci è andata male questo ce lo siamo persi la supernova era esplosa già prima e invece due è lontano dall'ammasso ma non così tanto ed è quello presente quello che stiamo osservando e allora abbiamo la fortuna di avere tre perché il tre non è ancora arrivato quindi il tre è il nostro futuro quando arriva la supernova quando possiamo riosservare l'esplosione della supernova in tre ed ecco qui la nostra grande opportunità un gran team di scienziati ognuno impegnato in questo tipo di ricerca con i propri modelli con i propri test della fisica da fare ha cominciato a lavorare insieme siamo partiti tutti dagli stessi dati una grandissima comunità che tutte insieme lavorava per cercare di conoscere quello che la scienza dovrebbe essere condivisione e comprensione un'esperienza unica che mi ha visto felicissima di abbracciare questa sfida abbracciare questa sfida per la comprensione di quando esattamente la riosserveremo quando la riosserveremo dipende dipende da che cosa? dipende dal nostro modello preciso della lente e della nostra conoscenza della fisica e allora la lente che cos'è qui? qui la lente è questo ammasso di galassie che vi ho fatto vedere prima questa è l'immagine reale questo è il modello che ho costruito grazie alla conoscenza della lente e grazie alla conoscenza della fisica possiamo cercare di predire quando possiamo riosservare la supernova e il nostro risultato è la supernova la possiamo riosservare nel 2015 futuro e finalmente il nostro regalo di Natale il nostro personale regalo di Natale il 16 dicembre il 16 dicembre del 2015 guardate questa è l'immagine della prima supernova le quattro immagini della prima supernova e qui non c'è niente ma il 16 dicembre del 2015 ecco la supernova centrato, punto centrato e finalmente abbiamo potuto riosservare il futuro e allora possiamo viaggiare nel tempo? ebbene sì possiamo viaggiare nel tempo grazie alle lenti e non c'è bisogno di avere un atteggiamento scettico e un atteggiamento preoccupato basta abbandonarsi alla fisica le leggi della fisica all'universo e godersi questo viaggio grazie grazie applausi grazie